E' stata celebrata dal Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina Monsignor Rosario Gisana una santa messa per pregare affinché la vertenza Gela possa trovare soluzioni che arginano l'emergenza di questo dramma. Erano state le stesse sigle sindacali CGL e Cisle Will a chiedere di poter dedicare la celebrazione ai lavoratori. Vorrei veramente far sentire ai nostri lavoratori che in questo momento vivono un momento difficile, d'altra parte spero che sia soltanto un momento, la vicinanza certo mia, della Chiesa ma soprattutto del Signore. Il Signore non ha mai dimenticato nessuno, anzi al contrario egli è sempre ed è sempre stato e lo sarà sempre vicino alle persone bisognose, vicino alle persone che in questo momento mostrano una condizione di angoscia e voi potete capire quanto è difficile vivere senza lavoro e quindi quanto possa essere angosciante il fatto di non avere il lavoro. Stamattina abbiamo fatto un incontro in Prefettura assieme con il Vescova e assieme con la delegazione dei lavoratori e questo è un momento importante per dimostrare il fatto che la Chiesa ma anche tutto il clero è molto vicino ai lavoratori. La Chiesa soprattutto in questi giorni sta dimostrando con la concretezza che è necessaria nei casi di disperazione e di tensione sociale la vicinanza, umana ma anche pratica e credo che questo sia il più bel messaggio che possa arrivare qualche giorno prima del periodo di un'atterizio e che deve eseguire con lo stesso profilo che è quello della concretezza anche dopo queste breve pausa di un'atterizia. Il sindacato ha fortemente voluto questo incontro, ce ne saranno degli altri perché noi siamo convinti che una delle cose che è mancata a Gela come in tante altre parti del Sud della coesione tra i corpi sociali e invece noi la dobbiamo cercare tra laici, cattolici, tra il mondo involontariato e tra il mondo politico. Noi cerchiamo risposte, altre dobbiamo dare noi e siamo qui per metterci in gioco e soprattutto per dare segnali di speranza. La Maratona Teleton arriva nelle scuole. Ieri ad abbracciare il grande progetto nazionale di solidarietà è stato l'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Sturzo di Gela. Grande partecipazione di studenti e docenti, il dirigente scolastico Grazio Di Bartolo. Raccogliere fonte per la Teleton è molto importante perché sappiamo che la Teleton combatte le malattie genetiche e quindi è una tematica importante per la salute. I nostri ragazzi sono molto sensibili a queste tematiche e hanno raccolto delle somme che devolveremo alla Teleton. Sicuramente con ciò manifestano che cosa? Il senso di solidarietà e il senso di dar senso e importanza a queste tematiche. Sappiamo che la Teleton appunto si occupa di questo, si occupa di cercare di combattere e sconviggere queste malattie genetiche riguardo alla distrofia muscolare, la sclerose e tantissime altre malattie. Quindi la ricerca è un qualcosa di importante e il fatto che i ragazzi manifestano questa solidarietà, si comportano in questo modo, nel senso che raccolgono fonti per, è qualcosa di molto importante per gli educatori e per la scuola. Per cui ringrazio i ragazzi e gli insegnanti che sono riusciti a realizzare questa giornata. Clima natalizio e sentimenti di solidarietà leggiano in questi giorni preludio del Natale in tutte le scuole di Gela. Grande organizzazione anche alla scuola Enrico Solito, nella quale il pensiero è andato alle famiglie meno abbienti. Che festa dunque sia, ma con contenuti profondi. Questa è diventata ormai una tradizione quasi per la scuola Enrico Solito, perché già l'anno scorso abbiamo fatto una giornata della solidarietà che abbiamo festeggiato insieme a tutti i bambini, i genitori e gli insegnanti e tutto quello che avevamo raccolto l'abbiamo devoluto nell'anno passato alle varie parrocchie gelesi. Quest'anno, proprio all'insegna della tradizione, invece ciò che si raccoglierà, i fondi, i piccoli fondi che raccoglieremo da un versante andranno verso la Casa della Misericordia e dall'altra invece all'Unicef. In pratica tutto quello che qui vediamo è un lavoro condiviso, grazie ai genitori, lo devo sempre dire, perché con l'aiuto dei genitori e i bambini sono stati realizzati dei piccoli lavoretti. Hanno fatto un lavoro eccezionale, chiaramente questo verrà devoluto all'Unicef. Però io vorrei dire una cosa, la scuola, questo progetto della solidarietà, non è solo un momento dell'attività scolastica, ma rientra nel progetto di cittadinanza attiva, un progetto che noi abbiamo avviato dall'inizio dell'anno partendo dall'idea di fare delle attività in modo tale che i bambini possono stare prima bene con loro stessi e poi con gli altri. È stata inaugurata la nuova sede del coordinamento delle opere, nuovo centro di incontro e punto di riferimento per le associazioni e le imprese che compongono lo stesso coordinamento. Ospiterà le attività sociali, tra cui quelle svolte da Oltre il Muro Onlus. Nasce il coordinamento delle opere, una sede che serve ad ospitare tutte le attività delle opere del coordinamento. È un momento importante per noi perché a me personalmente offre la possibilità di continuare il percorso di formazione con i ragazzi in queste strutture, certamente che sono fuori dalle mura parrocchiali, perché la natura del coordinamento è quella di collocarsi su un territorio cittadino e non esclusivamente parrocchiale. Fuori dalle mura di una parrocchia certamente potrò maggiormente agire con i ragazzi e con loro formare la generazione del futuro. Questo è per me un grande segno di responsabilità, che la Chiesa mi affida e che consapevolmente io assumo. E auspico che tutti i ragazzi della nostra città di Gela, gli amici dei nostri ragazzi e tutte le famiglie che ogni lunedì si incontreranno possano vedere in questa sede un punto di incontro e di coinvolgimento. È una gioia per me, una gioia per il Vescovo, una gioia per la Chiesa, ma soprattutto penso che sia una punta di orgoglio per la città di Gela. Questa inaugurazione rappresenta il primo vero passo delle attività del coordinamento delle opere. È la sede operativa del coordinamento, ma delle stesse associazioni che lo compongono. Si tratta di un ambiente dove andremo a sviluppare progetti di formazione, progetti sociali, progetti culturali. La nostra città richiede ambienti di questo genere. Avere una sede aperta 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, per far crescere i nostri ragazzi più giovani, ma anche le famiglie che ci aiutano e ci supportano quotidianamente, è un traguardo ma è anche un punto di inizio per quanto riguarda i progetti futuri del coordinamento stesso. Credo che siano di quelle categorie che dovremmo lentamente ma progressivamente assimilare e maturare. Perché se noi non puntiamo al coordinamento, qui come abbiamo sentito, si tratta di coordinamento di opere. Allora vorrei anche evidenziare l'aspetto plurale, quindi non solo un coordinamento, ma di opere. Quindi significa che ci sono dentro tante attività che tenteranno alla sinergia e questo evidentemente permetterà un arricchimento, direi, notevole. Tracciato il bilancio delle attività dell'ASP2 di Caltanissetta relative a questo 2015 che sta per concludersi. Il top manager Carmelo Iacono rendi conto sull'azione svolta dalla direzione strategica aziendale sul distretto di competenza. Dieci mesi non sono un tempo eccessivamente lungo perché prima è necessario rendersi conto di quelle che sono le criticità che ci sono e poi bisogna trovare delle soluzioni. Però devo dire che col congiuntivo che noi abbiamo portato oggi, io sono estremamente soddisfatto di ciò che abbiamo realizzato perché abbiamo dato, ritengo, delle risposte importanti. Fermo restando che criticità ce ne sono ancora tante e che vanno risolte, però le cose più importanti, più grosse, più eclatanti, secondo me hanno già avuto una risposta. Ad esempio nell'organizzazione del pronto soccorso, con l'attivazione degli ambulatori dei codici bianchi, con la dotazione di lette barello per il pronto soccorso o con la dotazione di letti elettrici per i reparti dove c'erano dei letti obsoleti e i pazienti cadevano a terra. Ma non solo, anche dal punto di vista strutturale, la riapertura del quarto piano con la riallocazione dell'ortopedia ci ha consentito di offrire all'utenza altri 40 posti letto per l'adegenza. Era assurdo avere un reparto chiuso e avere pazienti che non riuscirono a ricoverarsi perché non trovavano il posto letto. Nei posti lasciati liberi dall'ortopedia, a pomeriggio si trasferirà la chirurgia, scivolerà la chirurgia, dando anche dei locali ad una struttura che è una struttura fortemente evoluta da questo territorio, che è la breast unit e dando anche spazi ad altri reparti importanti quale l'Urologia, l'Otorino, che avranno una loro allocazione. Abbiamo aperto una nuova ala che sono i locali dell'ex direzione sanitaria dove abbiamo allocato i talassemici. Allora questi sono dei fatti strutturali che sono fatti estremamente importanti per non dire anche di tutte le attrezzature che abbiamo comperato. Ne cito una sola, ad esempio, che è quello dell'ecografo per l'ecografia morfologica alla divisione di ostetricia. Cioè era assurdo che in una struttura dove vi è un alto rischio ambientale, quindi il rischio di malformazione, non si potesse fare un'ecografia morfologica che è proprio specifica per andare a vedere le malformazioni già nel grembo della mamma. Taglio del nastro sabato scorso per la seconda mostra di presepi allestita dalle scuole, infanzia, primaria e secondaria di primo grado promossa dalla Proloco Gela che trova spazio all'interno del Palazzo di Città. Don Giorgio Cilindrello, parroco della Chiesa San Francesca, ha benedetto l'iniziativa che potrà essere visitata gratuitamente fino al 6 gennaio prossimo, dalle 10 alle 12.30, dalle 17 alle 20.30. Presenti all'evento anche assessori, consiglieri comunali, il presidente dell'assise civica Alessandra Ascia, il presidente dell'antiracket Renzo Caponetti, dirigenti scolastici e insegnanti. La cantante Anna Salsetta ha intrattenuto i numerosissimi ospiti interpretando brani natalizi. La Proloco è voluta essere presente all'organizzare questa bellissima manifestazione perché secondo noi partire dalla parte più pulita, più bella della nostra città era importantissimo. Ecco perché l'importanza dei presepi fatta e organizzata alle scuole ha questo grande valore. Pensare che i bambini hanno costruito e sono impegnati sotto la grande maestria dei docenti per realizzare queste bellissime meraviglie, questo ci dà la speranza che è quella che noi vogliamo, di una grande città futura. Avere i presepi dentro il comune, la città, la casa di tutti i gelesi, è importante. Dei presepi fatti dai bambini, che è il futuro di questa città. Sono dei messaggi importantissimi. A me il terzo, la natività, la rinascita, la possibilità di rinascita. Dopo una Pasqua pesante c'è sempre la possibilità di rinascere e Gela ne ha veramente bisogno. È importante che Gela in modo coeso, unito, ritrovi quella sua identità per superare un momento che sicuramente non è tra i più brillanti e felice della sua storia. Ai visitatori è stato consegnato un grazioso cadò. Le degustazioni dolci e salate portano la firma del pasticcere Angelo Cassarino e del panificatore Michael Cassarino, artigiani locali che hanno sposato da tempo il progetto Proloco. La scuola Nicholas Green ha allestito un baby presepe vivente che ha riscosso un elevato apprezzamento del pubblico. Significativi temi trattati dalle scuole attraverso i presepi, immigrazione, rispetto dell'ambiente, e giubileo della misericordia, eccellenze del territorio, forza evocativa delle tradizioni. L'accoglienza è stata curata dagli studenti dei corsi diurni e serale dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela, diretto da Grazio Di Bartolo. Gli allievi sono coordinati dal professore Emiliano Sigona. La nostra scuola, Ettore Romagnoli, in particolare le classi seconda e terza I, abbiamo deciso di realizzare questo presepe creativo e attuale. Il tema di questo presepe è l'immigrazione, che come si può vedere la Sacra Famiglia è rappresentata come una famiglia di immigrati che tenta di scappare dalle guerre. Sono arrivati doni e sorrisi sabato scorso per la seconda edizione di Sorridiamo per i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. L'evento è il risultato della collaborazione dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela, diretto da Grazio Di Bartolo e ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo Sezione di Gela, presieduta da Giacomo Giurato, in collaborazione con il reparto di pediatria dell'ospedale, diretto dal dottore Rosario Caci. Sono stati consegnati gadget e doni preparati proprio dai ragazzi dell'accoglienza dell'Istituto Alberghiero coordinati dal professore Emiliano Sigona. La finalità è quella di promuovere la donazione del midollo osseo. ADMO e l'Istituto Alberghiero di Gela hanno voluto regalare per il secondo anno consecutivo questo momento straordinario dei bambini ricoverati in pediatria. Un momento importante perché stacchiamo con la vita di tutti i giorni dei bambini ricoverati e gli regaliamo un sorriso. In un momento in cui la città sta attraversando un momento così particolarmente critico regalare un sorriso un abbraccio a questi bambini diventa un momento importante. E noi oggi l'abbiamo fatto siamo orgogliosi e felici di averlo fatto assieme anche al Movimento Giovanile San Francesco che abbiamo trovato in reparto e quindi è stato un momento di condivisione straordinaria. Abbiamo trovato la collaborazione dell'ASP che ringrazio personalmente dei medici dalla caposala e soprattutto dei genitori dei bambini che hanno veramente condiviso con noi questo bel momento. Abbiamo regalato un sorriso abbiamo dato dei pensierini abbiamo anche regalato qualche caramella che ovviamente è stata vietata dai medici ma era un segno importante è stato regalato anche un bambino Gesù offerto dal Movimento Giovanile San Francesco e il messaggio che vogliamo lanciare è questo doniamo un sorriso doniamo degli abbracci perché daremo un senso alla nostra vita Penso che l'esperienza più bella sia dare un sorriso ai bambini è un'altra cosa i bambini molte volte non sanno che cosa significa allegria se non gliela porti tu dentro quindi tu gli devi dare un po' del tuo amore per fargli sentire qualcosa per noi è stata la prima esperienza siamo stati accolti dai bambini in modo sorprendente e anche noi abbiamo portato a loro un pensierino regalando il bambino Gesù per augurargli un buon Natale l'essenziale non è ciò che facciamo ma come lo facciamo ogni giorno col cuore la gioia la passione la competenza l'entusiasmo la condivisione l'unione l'allegria la discrezione nella possibilità che sulle labbra di un bambino affiori un sorriso questo è il profondo messaggio della giornata è stato commemorato sabato scorso il centenario della morte del tenente Giovanni Guccione caduto nella terza battaglia dell'Isonzo all'inizio della prima guerra mondiale una messa in suo suffraggio è stata celebrata la chiesa San Francesco al termine della cerimonia religiosa gli astanti in corteo si sono mossi verso Corso Vittorio Emanuele e Piazza Martiri della Libertà in cui è stata deposta una corona dall'oro commemorare un eroe al di là dell'epopea di ciò che si può dire di una persona cosa ha fatto nella sua vita eccetera ciò che è importante è il simbolo che un eroe riesce a costruire a dare alla città un eroe noi ne abbiamo più di uno come ci troviamo in una piazza che potremmo benissimo intitolare Piazza Medaglie d'Oro a questo punto è una piazza dove sono concentrate le nostre medaglie d'oro che danno lustro alla nostra città e dovrebbero far comprendere a ciascuno di noi che è una città che è capace nei momenti difficili di ritrovare la forza e di andare avanti è quello di cui oggi abbiamo bisogno a cosa servono gli eroi gli eroi servono a questo a darci a indicarci la strada e che bisogna fare degli sforzi anche in mani se è necessario per raggiungere gli obiettivi di rinascita della nostra comunità anche se in quel caso nel caso di Guccione si parlava della nazione insomma dell'Italia ancora gioia sorrisi e preziosi momenti di condivisione all'istituto scolastico Enrico Solito di Gela vanno in scena gli alunni per uno spettacolo di commiato prima della pausa delle vacanze e natalizie musica canto e coreografie per dirsi arrivederci al prossimo anno il dirigente scolastico Clizia Nobile è il secondo anno che la nostra scuola Enrico Solito organizza questa festa è la festa del saluto dei bambini di cinque anni alla scuola primaria e dei bambini della quinta classe della primaria che salutano le loro maestre c'è il passaggio del testimone è una grande festa con la scusa del Natale dove i bambini di cinque anni e delle classi quinte si incontrano per poter festeggiare insieme questo loro passaggio e dove i bambini più grandi chiaramente fanno una consegna importante si raccomandano di stare bene con le maestre che lasceranno loro perché quelle sono le maestre che loro avranno sempre nel loro cuore Riperimetrazione del sito di interesse nazionale nella vasta area industriale di Gela è questo uno degli obiettivi principali perseguiti dall'amministrazione comunale guidata da Domenico Messinese si tratta di un passaggio fondamentale in tema di bonifiche e bonifiche cui progetti negli anni hanno viaggiato su e giù da Roma a Palermo per restare impolverati su qualche tavolo oggi il tema delle bonifiche è sentito e suscita profondo interesse da parte di tutte le forze sociali che chiedono a gran voce che vengano avviate l'assessore a ramo Simone Siciliano questa è un'attività importante perché di fatti le aree sin censite al ministero riguardano l'area a mare 47 km quadrati di area a mare e l'area all'interno della raffineria di Rage mentre erano state escluse dalle attività di perimetrazione tutte quelle attività che riguardano Enimed cioè gli oleodotti i pozzi e e i centrioli stiamo parlando di attività importanti che si estendono su tutta la piana di Gela basta considerare che si parli di 80 pozzi 60 km lineari di oleodotti e diversi centrioli ecco questa attività per noi è partita già nel periodo estivo con una concertazione da parte dell'amministrazione con la regione del ministero ed Enimed affinché si arrivasse ad una cartina ad una topografia di qual era l'area da riperimetrare e di fatti la cartina che noi poi abbiamo portato al ministero per chiedere di avviare con insistenza le attività per fare la riperimetrazione all'interno di questa riperimetrazione c'è anche la verifica delle aree a mare chiaramente spieghiamo che tutte le aree che rientrano all'interno del perimetro dell'area sin hanno dei vantaggi notevoli i vantaggi sono legati al fatto che essendo siti di interesse nazionale godono di un'attenzione particolare per i processi di bonifica o meglio godrebbero di interesse particolari sta di fatto che poi l'amministrazione deve rendersi parte attiva per accelerarli ed è quello che ha fatto questa amministrazione le aree che rimarranno escluse non saranno bonificate no in realtà non è quello è semplicemente il fatto che le aree escluse poi per essere bonificate hanno bisogno di risorse economiche se sono diciamo aree all'interno dell'area sin ricadono in ambito statale se non sono in area sin ricadono in ambito regionale più vasta è quest'area maggiore probabilità ci sono di bonificare con fondi statali esattamente in ambito Grazie per la visione!